O Ugo De Vivo o Erminia Ocello, questo l'ultimo dubbio che resta da sciogliere sul futuro del comune di Isernia. In serata dovrebbe arrivare a meno di ulteriori e incomprensibili ritardi il deposito della sentenza del Tarmolise, chiamato a dire cosa accadrà a Palazzo San Francesco, il prolungamento del commissariamento prefettizio oppure il ritorno del sindaco eletto dagli isernini Ugo De Vivo, tutti in attesa di una sentenza che tarda ad arrivare e che qualunque essa sia muterà profondamente gli equilibri politici cittadini. Difficile infatti immaginare che ci siano ancora 17 consiglieri comunali disposti a dimettersi come hanno fatto i loro predecessori qualora il TAR rimette senza l'Augo De Vivo. Inutile dire che si sprecano i pronostici e che l'attesa è oramai spasmodica, sono cose dette e ridette mille volte. A tutto ciò si mescolano i mal di pancia in via aberta per l'abolizione della giunta provinciale disposta dal governo Monti a partire dal prossimo 1 gennaio e le speranze e le attese di chi guarda le prossime elezioni regionali come via di fuga per continuare la propria carriera politica. Un clima di incertezza generale che in serato al massimo domani mattina dovrebbe trovare la prima risposta.